Ciao a tutti da Poderak, benvenuti qui su TramSim, vi ricordo il link del gioco qui sotto in descrizione scontato è arrivato un nuovo DLC, in pratica si chiama Deposito e ci permette di aggiungere proprio il deposito, la possibilità di lavare il tram, tutte queste funzioni in più su TramSim, è a pagamento, io speravo fosse un aggiornamento gratuito ma purtroppo a pagamento vabbè, speriamo che gli sviluppatori un po' su questa cosa si riaddrizzano, non è che possiamo comprare tutto ma qua c'è già un tram, mannaggia loro, chi l'ha messo sto tram? adesso vi faccio vedere la procedura di accensione del tram, perché non è proprio semplicissima qui a sinistra abbiamo un manuale che ci spiega tutto il funzionamento, però non è proprio intuitivo e poi in inglese, le scritte sono in tedesco, bisogna un po' sbatterci la testa io ci ho sbattuto un po' la testa, sperando adesso di fare un tutorial e anche un gameplay vi faccio vedere come funziona, così vi imparate a guidare proprio un tram adesso il Flex City che si trova a Vienna e come si fa ad aprire le porte come negli autobus c'è il tasto magico qui laterale che vi permette di aprire le porte e accedere all'interno del vostro tram una volta che siete entrati dentro, fate E, così entrate e potete premere questo tasto qui per chiudere tutte le varie porte oppure premendo 9 su NUM NUM a destra qui a sinistra abbiamo il tasto e abbiamo anche la possibilità di inserire la chiave la inseriamo, giriamo a destra una volta e qua dovete stare fermi, perché se fate qua qualche movimento vi sgarrate l'accensione come vedete ci sono tutte le scritte in tedesco che vi stanno dicendo mi sto avviando, non ti preoccupare mi sto caricando vedete questo flash che lampeggia? dovete aspettare che questo flash a parole tu può dare a termini di lampeggiare non dovete fare nulla finchè questo flash e non c'è poi anche un effetto sonoro che vi dice a posto nel frattempo che attendiamo qui vediamo che comunque il resto anche lampeggia e a questo punto possiamo procedere anche impostando via in questo modo stiamo dando corrente cioè gli diciamo che tipologia di corrente credo dobbiamo dare al tram e alziamo il pantografo così diamo l'alimentazione definitiva come vedete ci dà successful quindi siamo riusciti ad accendere il nostro tram a questo punto che cosa, vabbè comunque così si accende completamente cosa possiamo fare adesso? adesso possiamo mettere su 0 e estrarre la chiave in questa maniera ah scusate su 2 si accende completamente ora ci alziamo con E e andiamo in fondo perché in fondo? per chi non lo sapesse nei tram non si può fare retromarcia si può fare retromarcia da qui quindi aprite con la chiave inserite la chiave girate con il mouse verso destra e avete acceso il cruscotto questa è la leva per accelerare mi raccomando le porte assicuratevi che siano tutte chiuse perché se non è chiuso come quando utilizzate il tram normale non parte ok? quindi avete chiuso tutto il tram avevo questa pure no vabbè la lascio aperta non mi interessa andiamo adesso a uscire il tram perché dobbiamo andare da questo deposito fino al deposito per andarlo a lavare come facciamo a muoverci? molto semplice c'è questa levetta che ci permette di avanzare però per muoverci dobbiamo tenere premuto il tasto rosso quindi tenetelo premuto aspettate che punto il mouse ok lo sto tenendo premuto e in teoria aumentando la leva ok come potete vedere ci stiamo muovendo per decelerare cosa potete fare? o utilizzate i tasti A oppure Y perché i tedeschi hanno al posto della Z la nostra Y e noi abbiamo la Y al posto della Z quindi per muoverci noi europei italiani dobbiamo premere Y sempre tenendo premuto questo tasto io ancora ho il tasto del mouse sinistro premuto e dobbiamo andare fino a quel punto lì che vedete ok? arriviamo fino a questo punto fino a 36 36 metri 30 quello che è sperando che non ci sia nessuno avanziamo ancora finché non sentiamo che fischia ok ha fischiato drive up the shooting worker quindi adesso cosa dobbiamo fare? dobbiamo prendere lo strumento giallo presente nella parte posteriore del guidatore questo qui a sto punto apriamo la porta ah no scusa devo aprirla io ok penso con 9 si apre prendete la forchetta arrivate qui dov'è? e deviate il tram che deve andare dritto se non vado errato lui andrà di qui dove è che devo andare io? neanche di qui ma mi sa che devo andare dritto no no devo andare lì ok lì entriamo chiudiamo la porta rimettiamo la chiave central kill ah ok l'ho dimenticata lì dietro prendiamoci la chiave qua possiamo pure farne a meno prendiamo mettiamo su off prendiamoci la chiave chiudiamo ah è vero dobbiamo impostare su su b1 meno male che me l'ha ricordato ok b1 quindi ok così a posto abbiamo messo su b1 e possiamo andare finalmente avete visto che procedura? è una procedura bella complicata però una volta che ve la siete fissata il gioco è fatto quindi andiamo su on accendiamo teoricamente qua vedi che non c'è più nessuna luce se andiamo avanti in teoria dovrebbe avanzare e così è ma non avanziamo troppo veloce andiamo piano teoricamente dovremmo andare per di qua esatto oh oh no oh si pensa ah no dovevo girare che scammer il primo è questo quindi così andiamo dritti ok qua andiamo 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 e dobbiamo andare a destra a sinistra proviamo adesso così o dovrei aver impostato giusti binari spero altrimenti è una bella fregatura devo riprendere la chiave ok mi è messo in folle chiuso chiudiamo la porta mettiamo la chiave giriamo giriamo in teoria andiamo vediamo cosa succede adesso secondo me ho sbagliato tutto di nuovo vediamo forse forse no forse è giusto oh no forse è giusto è giusto è giusto oh che cu buongiorno per favore impostami tu lo switch ok ok mio collega perfetto teoricamente mi ha messo quello lì lo switch non lo faccio più lo switch cioè io ero convinto di andare in quel deposito lì e per fortuna ho sbagliato facendo giusto adesso ci switchano loro al posto nostro vediamo se andiamo in sto in sto disposito qua adesso devo parcheggiare nella hall quindi metti a zero prendi la chiave alza ok ah in teoria loro dovrebbero averci fatto lo switch in teoria quindi io quanto apro qua e imposto il cruscotto quindi mettiamo e muoviamoci in teoria vediamo spero di si oh vai in teoria dimmi che mi hanno fatto tutto loro senza dirmi che hanno fatto tutto loro aspetta che forse me l'hanno fatto ah no no me l'hanno fatto me l'hanno fatto ok cioè io devo fare tutti sti switch ma chi ma io esci esci pazzo esci pazzo raga raga uscite pazzi se lo facevate voi avete visto quanti binari non capisci cioè almeno io sono un po' inesperto adesso wow quindi adesso ci avviciniamo in teoria tra poco lo puliamo e avanziamo piano piano si può andare piano ah ok eh vedi mi compare dopo è uno scam vedi è uno scam è uno scam piano piano ok break point è quello proprio avanza proprio poco poco bisogna tenere sto bussante attivo se no non avanza piano piano abbassa il pantografo ok per abbassare il pantografo bisogna della chiave non lo so però nel dubbio prendiamocela non credo che serva ok chiudi chiudi tutte le porte vabbè lo chiudo davanti lasciamo stare e qua abbassiamo il pantografo in teoria go ah ma va c'è pure ma devo aprire la porta di nuovo ok apriamo la porta chiudiamo la porta invece si potrà chiudere no ok perfetto andiamo qui pazzesco pazzesco raga finalmente stiamo lavando il nostro tram vi faccio vedere ci ho messo tre ore per raga tutto l'episoglio è solo su come lavare il tram ma col cavolo che schifo schifo la scena me la guardo tutta 22 minuti è da mezz'ora qui che sta fatica qua per lavare sto tram me lo devi lavare tutto sopra sotto e dentro bellissimo comunque ahhh guarda qui come si lava un tram lo sapevate che si lavava così un tram adesso lo sapete è un po' come il lavaggio delle proprie auto c'è un lavaggio completo davanti bello bello me lo godo tutto almeno io me lo godo poi al massimo ve lo faccio avanzare veloce a voi adesso è una bella asciugatura poi non me la fa adesso sta ritornando indietro non sapevo che fossero così i lavaggi dei tram come le auto bella abbiamo terminato così di appunto lavare il nostro bel tram guardate come è bello lucido prima era tutto zozzo spero che questo video vi sia stato utile un bel video tutorial mi raccomando lasciate mi piace iscrivetevi al canale vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate il link di tram simulator e noi ci vediamo alla prossima ciao 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 Grazie a tutti.